Zio Vagna, uno dei capolavori assoluti del teatro di Chekhov, è lo spettacolo di apertura in prima nazionale della stagione del Manzoni di Pistoia. Una produzione per la regia di Marco Bellocchio dai nomi di rilievo. Sul palco ci sono infatti Sergio Urbini, Michele Placido e Anna della Rosa. Una storia narrata da quello che è uno dei registi considerati più anticonformisti del cinema italiano in maniera tradizionale. Una vicenda di interni, intima, fatta di vicende normali, scombussolate dall'arrivo nella quiete della campagna russa di persone di città. L'Occhio in Merità che appunto viene presentato come uno dei registi più anticonformisti del cinema italiano. Faccia parlare il testo per quello che è, voglio dire, perché si attualizza da solo, si attualizza attraverso le parole sia del medico di Astroff, sia di Vania, anche del mio personaggio. Cioè è un testo intanto che merita più che andare sulla politica, va sull'esistenziale, credo. È un testo di persone, di anime, di solitudini. Ciecoff è uno degli autori più amati del Novecento e a cui si rifanno anche degli autori, insomma, guarda caso, perché i suoi testi sono malinconici, se vuoi, e pur andando a volte sul drammatico. In verità hanno una leggerezza nei dialoghi e nelle situazioni che, non so, Woody Allen è uno che si rifà tantissimo a Ciecoff. Lo spettacolo prodotto dalla Golden Art è anche una sorta di cantiere aperto e che prepara ad un altro progetto, la trasposizione cinematografica del testo, sempre diretta da Bellocchio, ambientata però nella Puglia degli anni 50. Pugliesi sono Placido e Rubini, facendo diventare la campagna russa, quella del tavoliere. La Puglia è un territorio all'interno in cui ci sono grandi estensioni di grano, grandi estensioni di territorio agricolo abbandonate, anche con vecchie masserie che darebbero il senso, non so come dire, di un mondo isolato, ma che la nuova civiltà sta arrivando e si sta divorando la terra, sta compromettendo il futuro dell'uomo sul piano naturalistico, paesaggistico. Perché questa è la cosa di questo testo che inquieta un po' e che lui abbia anticipato queste cose più di cento anni fa è motivo di grande riflessione. Zovania sarà in scena venerdì primo, sabato 2, domenica 3 novembre a Manzoni, dando il via ad una lunga tournée nei teatri del paese annunciata come una delle più interessanti ed attese dell'anno. Sono un'egoista, ma è possibile che neanche da me che io non abbia diritto, ho un po' di egoismo a essere sopportato e rispettato.